Una lettera aperta ai cittadini di Capaccio Pestum è stata emanata dai medici dell'AFT, Aggregazione Funzionale Territoriale, affinché si possa collaborare unitariamente per combattere l'emergenza coronavirus. Gli eventi legati alla diffusione del contagio nel nostro territorio ci preoccupano e non poco nella nostra qualità di medici di medicina generale organizzati nella FT Capaccio Pestum si legge nella missiva. Il numero dei contagi che ogni giorno siamo costretti a registrare nel nostro territorio è in costante crescita. Si tratta di decine di casi settimanali nel nostro distretto. Non è nostra intenzione creare terrore o alimentare ansie nella comunità, ma ci preme trasmettere con questa lettera aperta la necessità dell'assoluto rispetto di fondamentali norme igienico-sanitarie, quali distanziamento sociale, uso corretto e costante della mascherina, igiene accurata delle mani. Troppi cittadini senza mascherina, troppi gli assembramenti in prossimità dei locali pubblici e esagerato il mancato rispetto delle regole suddette. Il collasso del servizio sanitario locale e regionale, verso il quale ci stiamo inesorabilmente indirizzando, avrà gravi conseguenze sulla salute dei cittadini sintetizzabili semplicemente nei seguenti punti. Impossibilità per molti di accedere alle cure, decremento del livello qualitativo delle medesime, malgrado l'impegno e il sacrificio anche in termini di salute e di vite umane profusi dal personale sanitario tutto. Come operatori sanitari esprimiamo preoccupati, un messaggio che nasce dalle nostre quotidiane responsabilità. I nostri sforzi richiedono una vostra importante collaborazione. L'appello a voi cittadini è di darci una mano perché insieme di certo usciremo da questo incubo. E poi ci sono i motivi di preoccupazione ulteriore, soprattutto in tre punti. Il primo, l'imminente arrivo dell'influenza che ci darà problemi di diagnosi differenziale e potrà determinare la saturazione delle già intasate strutture ospedaliere. Due, la maggiore diffusione dei contagi nelle fasce giovanili della popolazione causa la superficialità e l'esuberanza di giovani che diventano responsabili, tra l'altro, di contagi familiari che quotidianamente registriamo fra i nostri assistiti, con grave pericolo soprattutto per le persone fragili. Tre, la diffusione del contagio che di fatto blocca la già fragile economia del nostro territorio con danni collaterali legati al fermo operato dalla quarantena e al problema sociale correlato, con coinvolgimento a catena di interi nuclei familiari ed aziendali. E infine, la missiva termina con alcune considerazioni. Anche il territorio e la medicina generale, in particolare pur con tutte le inadembienze governative a livello organizzativo e finanziario degli ultimi decenni, svolge il proprio compito con il massimo impegno. Tutto ciò può essere inficiato però da comportamenti egoistici e irresponsabili. Confidiamo dunque nella collaborazione di tutti. Si vince insieme o perdiamo tutti?